Ben trovate e ben trovati. Nei giorni scorsi, ma anche nella edizione di ieri di Fatti e Misfatti Quotidiani, si è parlato di rifiuti tossici, rifiuti pericolosi, comunque rifiuti certamente il cui utilizzo non sarebbe stato perfetto nella cittadina di Gioiosa Ionica. Rispetto alla prima portata della notizia, il fenomeno non si è ridimensionato, ma geograficamente dal punto di vista logistico è stato individuato il punto in cui ci sarebbe stata una non corretta attività di smaltimento dei rifiuti in una proprietà privata. Quindi è chiaro che l'amministrazione comunale, come peraltro il sindaco di Gioiosa Ionica ha confermato, dovrà intervenire, anzi è già intervenuta, ma pare che dal punto di vista dell'espansione del problema siamo in una situazione più tranquilla. C'è un problema limitato ad una proprietà privata quindi che va sicuramente definito. Il problema di Gioiosa Ionica, limitato dal punto di vista proprio ribadisco logistico, ha riconfermato però o quantomeno ha dato ulteriore ossigeno alla più che giusta polemica e alla più che giusta attività di verifica che si sollecita nel comune di Africo. Ad Africo da diversi anni alcuni cittadini devono fare i conti con il male del secolo, con il cancro e sono costretti a combattere questa battaglia che certamente facile non è. Inutile ricordare che ci sono state anche molte vittime proprio provocate da mali incurabili, da tumori maligni che non è stato possibile in alcun modo contrastare. Il problema è abbastanza grave, anzi è gravissimo, ma c'è una particolarità che tutti coloro o quasi tutti coloro che hanno avuto il tumore risiedono in una determinata area del territorio del comune africese e questo chiaramente ha aperto molte finestre di commento ma quello che servirebbe è una verifica totale. In quel caso pare che lo smaltimento di materiale che ora risulta tossico, per esempio l'amianto, non sia stato perfetto. Qualcuno probabilmente ha fatto il business, diciamo le cose come stanno e se ha fatto il business sulla pelle di poveri innocenti francamente non può esserci alcuna forma di comprensione. Allora è chiaro che appaia scontato affermare una semplice cosa, cioè la situazione va monitorata e va verificato cosa sta accadendo progressivamente, anche perché la statistica delle morti e dei malati di tumore ad africo purtroppo ha un costante tragico aggiornamento. Si parla ora di un ragazzo poco meno che ventenne al quale sarebbe stato, io il condizionale lo uso sempre anche per una questione di privacy o comunque di delicatezza, sarebbe stato diagnosticato un tumore. Quindi questo è un fatto gravissimo sul quale la stampa sta lavorando molto da diversi anni, non è un fenomeno, un argomento che sta nascendo adesso, è da tempo che si dice questo su africo, ma la notizia che ha riguardato anche Gioiosa Ionica in qualche modo ripropone un dubbio che molti anni fa alleggiò sulla cittadina ionica, dove secondo dati statistici c'era stato in un periodo di tempo ben contemplato, ben preciso, un aumento allarmante dei casi di tumore. Insomma c'è qualcosa che non va, al di là di quelli che possono essere i comportamenti di ogni singolo cittadino, c'è qualcosa che non va perché probabilmente la criminalità organizzata, mafiosa e non in alcuni casi ha avuto certamente il suo interesse, resta il fatto che a questo punto, visto che si tratta di salute pubblica e visto che si tratta di questioni che riguardano ognuno di noi, crediamo che sia opportuno intensificare le attività di verifica e arrivare anche a decisioni estreme. Ci vediamo domani se siete d'accordo, arrivederci.